Prato, col 49,5%, è la provincia italiana con la più alta percentuale di abbandono scolastico nel biennio delle superiori. Ma detiene anche la maglia nera per i punteggi delle prove invalsi di terza media, dati dovuti alla presenza di tantissimi studenti stranieri, il 28% della popolazione scolastica che faticano ad imparare la lingua. Viceversa, la percentuale di ragazzi italiani che non termina le superiori è del 10%, mentre i punteggi ottenuti dagli studenti del quinto anno nelle prove invalsi sono i più alti di tutta la regione. Una scuola quindi a due velocità che i presidi, la provincia e gli assessorati alla pubblica istruzione dei comuni vogliono riallineare partendo dal progetto Prato. Tanto abbiamo calcolato circa una decina di classi tra secondaria di primo grado, primaria e secondaria di secondo grado come classi iniziali proprio per l'accoglienza degli alunni stranieri. Ci permetterebbe di iniziare con dei numeri più ridotti a livello di gruppo classe e quindi nel corso del tempo poter accogliere gli alunni stranieri che arrivano in corso d'anno. Il progetto è stato presentato al MIUR che ha apprezzato la qualità della proposta ma non sembra intenzionato a finanziarlo. Noi abbiamo necessità che sia risolto il problema cronico di Prato ovvero di una non adeguata valutazione di quelle che sono le problemate del nostro territorio e quindi delle risposte che Roma ci deve dare. Comuni e provincia da anni investono in una scuola inclusiva. Avviene con le risorse proprie dei singoli comuni e avviene anche con le risorse che noi sono definite le risorse PEZ che la regione toscana dà. Intanto continua la storica carenza di classi. All'incirca di una sessantina, settanta cattedre che al momento mancano dall'organico.